In collaborazione con Studio Q Consulenze Finanziarie Paolo Giovanardi, da quest'anno la normativa ormai famigerata, diciamo MIFID 2, impone una maggiore trasparenza dei costi applicati ai clienti negli investimenti. Come si sono evolute le tariffe in questi anni? Se noi facciamo riferimento a un periodo di tempo consistente, come è giusto che sia, proprio per considerare un dato attendibile, abbiamo una ricerca che è stata svolta proprio da Mediobanca, quindi una banca, una parte in causa, che è andata ad analizzare costi e rendimenti dei principali investimenti, si parla soprattutto dei fondi comuni di investimento, in un arco di tempo, come dicevo, abbastanza lungo. E nelle varie pagine si scorge alla fine, tra le conclusioni, la parte che dice L'industria dei fondi continua a rappresentare un apporto distruttivo di ricchezza per l'economia del Paese. In un contesto decennale si verifica una distruzione di ricchezza intorno ai 7 miliardi, che diventa di ben 115 miliardi sui 15 anni. Quindi una banca stessa certifica che in questi anni vi è stato un progressivo incremento dei costi e l'efficienza dei fondi comuni è progressivamente calata e li hanno via via resi meno interessanti per noi investitori. Quanto incide il costo sul rendimento effettivo riconosciuto al cliente? Qui basta considerare che non ci sono più, come si sa, i tempi in cui investimenti di riferimento, ad esempio i titoli di Stato, garantivano rendimenti dal 5 al 10%, sappiamo che oggi i tassi sono negativi, gli stessi titoli di Stato, BOT, BTP, l'ultima asta del BOT è stata negativa, come avviene ormai da tempo. Quindi con rendimenti di questo genere il costo medio dei fondi va da un 1 a un 3% in base alla tipologia, va da sé che non solo viene ridotto il rendimento potenziale del fondo, ma spesso questo rendimento diventa proprio negativo e quindi contribuiscono in maniera determinante alla soddisfazione del cliente. Quali sono gli strumenti tradizionalmente più costosi per noi risparmiatori? I più commercializzati, quindi si tratta soprattutto di fondi comuni di investimento, polizze assicurative e tutto quello che va a comprare questi strumenti, come ad esempio le gestioni patrimoniali, sono gli strumenti prediletti da parte dell'industria bancaria perché producono spesso commissioni all'entrata, nel mantenimento e spesso anche all'uscita e quindi generano un reddito costante per la banca. E quelli che invece sono più accessibili e abbordabili perché non hanno costi così elevati? Gli strumenti più tradizionali, quindi ormai dimenticati, che sono azioni, obbligazioni o anche gli ETF che sono strumenti sempre più diffusi che hanno costi di gestione all'incirca di un 80-90% più bassi dei fondi comuni. Quindi questo è anche un modo per evitare di pagare troppo i nostri investimenti, ce ne sono altri? Un altro modo, anche questo è banale, ma è importante ricordarlo perché spesso non viene rispettato una piccola regola è sempre considerare che quando ci sono costi di ingresso, mi riferisco soprattutto a pollizze assicurative o a fondi comuni, è bene anche evitare l'investimento stesso perché significa matematicamente partire da un rendimento negativo. Stesso discorso vale anche per i costi di uscita, quindi quando abbiamo uno strumento che genera costi di uscita e quindi che mi vincola per un certo periodo di tempo, forse due domande ce le dobbiamo fare, anche perché se l'investimento si rivelasse non confacente alle nostre aspettative saremmo vincolati a mantenerlo oppure se vogliamo uscire dobbiamo spendere. Quindi certamente considerare quando ci sono costi di entrata e di uscita che non è obbligatorio fare quell'investimento. Un costo di gestione anche per dare un riferimento che possa essere adeguato va da un mezzo punto percentuale all'1%. Quando si va oltre questo costo, che è bene verificare prima di fare l'investimento, forse un ragionamento è bene farlo. Mi sembra di capire in conclusione Paolo Giovanardi che tra costi di ingresso, costi di tenuta o di gestione, costi di uscita siamo tartassatissimi, quindi forse è meglio non investire? Gli strumenti ci sono, chiaramente gli strumenti efficienti ci sono, non sono ai primi posti nella proposta della banca, è un motivo in più per dare, come d'altronde la legge dice, quindi la MIFI 2 obbliga, impone alle banche una comunicazione trasparente, vale veramente la pena non solo di considerare il rischio dell'investimento, e questo è sempre l'aspetto principale, ma poi di dare molta, sempre più attenzione ai costi stessi perché possono vanificare tutta la soddisfazione che mi può arrivare dall'investimento.